Siamo giunti alla settima, quattro anni sul miglio, non corre il tredici, l'Orex va, ne rimangono in quattordici, Ramarro Jet, Simioli, ovvio, in salto, il più gettonato, mezzo meccanico in movimento. Quattordici, quattro anni, settima miglio, allineamento completato, arretrati il sette, l'otto, parte molto piano Ramarro Jet, che va ultimo, via la macchina. C'è lotta per il comando con Roy Stingox Don, alle prese con Rafa Di Jesolo che persevera, sta passando Rafa Di Jesolo con il buon buon pane, gioco di parole, ma è lui il driver. Tredici e uno per Rafa Di Jesolo, viene via deciso il record Cosmos numero otto, è partito alla grande Raptor Ramnis, a largo viaggio a Roger Tav. Quattrocento in ventinove e uno, Rafa leader a buona andatura e conduce liberamente lontano Ramarro Jet, quasi praticamente fuori corsa. Si va dopo 600 che se ne vanno in 44 e 4, fa buona andatura e il buon buon pane con il suo Jesolo, trova sempre traffico record che è costretto sempre in terza ruota. Dietro è Roy Stingox Don e poi l'uno di Roxanne De Chiari. Si va di fronte, uno e due e mezzo miglio, scompare il record Cosmos in leggero affanno. Stiamo a timbrare il chilometro, Rafa in pugno di situation, chilometro in 16 e 6, a lunga disinvolto Rafa Di Jesolo, ma ora è il 10, Raptor Ramnis a farsi insidioso. E l'allievo del dottor Incorrado attacca a fondo l'allievo di buon pane. 13, 8, 1, 34, i tre quarti di miglia si staccano in lotto, ma riparte, galoppa Rafa Di Jesolo. E così Raptor si ritrova al comando, ma anche lui deve comandare forte. Viene via il numero 15 di Reina D'Asolo, insiste Reina D'Asolo, appariglia Raptor, Reina D'Asolo, con Giovanni De Simone, secondo Raptor Ramnis e terzo. Il numero 1, Roxanne De Chiari. 2, 1, meno qualcosa, 1, 15 e mezzo, che peccato per Rafa Di Jesolo. Aveva impugna di situation, un inciampone, qualche altra cosa, non vi so dire. Purtroppo out, freeway, per la Reina D'Asolo, con l'ottimo De Simone, che ha saputo attendere. Forse Raptor Ramnis ha corso alla grande, ma ha trovato una Reina D'Asolo al top della condizione. Non male Roxanne De Chiari, questo è il probabile arrivo, viene allo studio. Grazie a tutti.